Sono otto i comuni calabresi dichiarati zona rossa, Bagnara Calabra, Platì, Bruzzano, Zeffirio e Cardeto in provincia di Reggio Calabria, Pallagorio, Cotronei, Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone e Mileto nel Vimonese. E quanto previsto dall'ultima ordinanza, la numero 92, firmata dal presidente facendo funzioni della regione Nino Spirli, ordinanza che prevede ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con la stessa disposizione, la regione ha istituito la zona arancione per quattro comuni, tutti del Vimonese. Si tratta di Pizzo, Rombiolo, San Gregorio di Pone e San Costantino Calabro. La nuova ordinanza, che resta in vigore sino al prossimo 12 dicembre, è stata emanata in considerazione dei contagi registrati negli ultimi dieci giorni. Negli otto comuni in zona rossa si registra un'incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assuma aspetti di forte criticità per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale per tutte le aree geografiche. Basti ricordare che a Isola Capo Rizzuto, poco più di 18.000 abitanti, ci sono 169 casi, quindi uno ogni 106 residenti. A Pallagorio si registra un contagiato ogni 43 abitanti e poi a Cotronei, 5.500 abitanti, ci sono decine di contagi nelle residenze sanitarie assistite. Quanto ai comuni Arancione, si registra un trend di nuovi casi confermati che, pur in presenza di un apparente rallentamento della curva, impone l'adozione di misure intermedie al fine di limitare i momenti di possibile assembramento che potrebbero dar luogo a nuovi contagi, non diversamente contenibili.